Buongiorno a tutti, sono Oksana Filonenko, la promotrice dell'arte moderna ucraina. Siamo nel cuore di Kiev, nella galleria d'arte moderna Portal 11 e oggi vi racconterò l'arte di un artista molto conosciuto e molto amato in Ucraina, Ivan Turetsky. Lui è anche la figura molto importante per lo Stato ucraino, siccome è coautore della Stemma nazionale ucraina. Grazie per la visione!